no no figlio! Ah è un video! Troia! Pensavo fosse una foto! E ritenevi un po' adesso! Valeriii! Figlio! 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 Alessandro Calegari! Lo sai, lo sai, lo sai che è un video? Kevin! Sì, io sono stata in ferma con il dimenticato ora! Kevin! Ciao! Di qualcosa in camera! Vedete la telecamera! Mia sorella! Mi chiami Amorosa, mio figlio! Sei nonna! Salo, nipote! Su Kevin, cosa sei? Dopo ti metterla su YouTube! Mi hai? Oh! Si chiamati, farina o Ado Altengorski Ah, all'unico o rambando. No! 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 No, non, 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 non. 1 la roma un po' la parola il 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 l'amore per favore il pietro il pietro il topo male ma è stato io ho detto non è il contrario la scritta ma l'aspetta chi si è nato non ho scritto per il tuo cliente per il tuo cliente affetto che un'altra cosa tic no il bambino di merda l'ultima salutate allora già siamo tutti e per l'ora